Nel fine settimana il tempo migliorerà sulla regione. Il fronte freddo di venerdì infatti darà luogo sabato a una depressione sul centro-sud Italia che farà fluire sulla regione correnti più secche di Bora. Un po' di umidità sarà ancora presente in quota. Per domenica invece arriverà l'anticiclone delle Azzorre che insisterà anche all'inizio della prossima settimana. Quindi per sabato avremo cielo variabile, probabilmente con più nubi al mattino e sulla costa dove sofferà Bora sostenuta. Poi in giornata prevalenza di cielo poco nuvoloso con Bora in attenuazione ma su Trieste sofferà moderata fino a sera. Per quanto riguarda le temperature avremo 28 gradi di massima sulla costa, 29 o 30 in pianura, minime di 20-21 gradi sulla costa, 18 per quanto riguarda la pianura. Per la giornata di domenica cielo sereno su tutta la regione con massime di 30 gradi in pianura, 28-29 sulla costa. Da dire che nel pomeriggio potrà formarsi qualche locale nuvolamento sui monti ma senza, diciamo, conseguenze. Bel tempo anche lunedì e martedì con temperature che probabilmente cominceranno ad andare oltre i 30 gradi in pianura. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.